Costringevano con nazionali bulgari a chiedere l'elemosina per poi portare loro via tutto l'incasso. E' ciò che è emerso dall'indagine della polizia che giovedì 4 febbraio ha portato all'arresto di madre e figlio di 65 e 39 anni di nazionalità bulgara per riduzione alla schiavitù. La vicenda inizia circa 20 giorni fa quando i poliziotti del commissariato Monforte Vittoria si sono accorti che nei pressi di piazza Risorgimento e piazzale Dateo girava sempre un gruppo di 7 stranieri che con cani al seguito tra le 8 e le 19 chiedeva l'elemosina ai passanti. Nel corso degli accertamenti è però emerso che il gruppo era costretto all'accattonaggio dalla coppia di madre e figlio e che il più delle volte erano soliti portargli via tutto il denaro che i cittadini gli donavano in strada picchiandoli anche spesso con un bastone. Gli stranieri a cui fornivano i cani per posizionarsi in prossimità di diverse fermate metropolitane inoltre venivano fatti dormire in una casa abbandonata in Viale Molise. Dalle indagini è poi emerso che madre e figlio convincevano alcuni connazionali a spostarsi da Sofia a Milano con la promessa del 50% dei ricavi guadagnati tramite accattonaggio ma una volta arrivati in città sottraevano loro i documenti d'identità portandogli via tutto. Madre e figlio sono stati condotti presso il carcere di San Vittore, i sette cittadini bulgari sono stati indagati per maltrattamenti di animali mentre i cani sotto sequestro sono stati affidati al canile comunale.